Vorresti fare marketing a risposta diretta ma non sai da dove iniziare? Niente paura, sei nel posto giusto. In questo breve video ti sarà spiegato quali sono le fondamenta che puoi gettare già da domani per costruire un'azienda in grado di generare ricchezza. Ora, mettiti comodo, perché passo la parola a Frank Merenda, l'esperto di marketing numero uno in Europa. Uno dei più grandi marketer di tutti i tempi, David Ogildy, diceva che a nessuno dovrebbe essere permesso di scrivere marketing o di fare marketing se non viene da una lunga formazione nel marketing a risposta diretta. Perché sono gli unici che sanno che cazzo stanno facendo, sono gli unici in grado di misurare, e quindi se misuri puoi migliorare, e sono gli unici che sono in grado di portare soldi. Per fare marketing a risposta diretta c'è una checklist che io vi do per verificare se i vostri materiali, dalla prima all'ultima email stupida che esce il vostro autoresponder, rispecchia queste cose. Allora, la prima è una call to action, che dovrebbe essere l'ultima cosa, ma nella mia mente è la prima. Cioè, io scrivo, o faccio un video, o scrivo un'email, o faccio una cosa, o pubblico una pagina con questa roba in testa, quindi parto a rovescio. Cioè, nella mia testa, call to action, cosa significa? Ho in testa l'idea di voler far fare qualcosa a qualcuno, quindi adesso scriverò qualcosa. Quindi adesso pubblicherò un pezzo, quindi adesso pubblicherò un video, quindi adesso manderò un'email. Non è faccio del contenuto e lo pubblico. Non esiste questa roba qua. Nessun pezzo di marketing deve nascere così. Quindi, se voi foste a scuola da me, come si fa un'agenzia marketing, io vi insegnerei questa roba. Cioè, partite dalla call to action. Cioè, mentalmente, partite da che cazzo volete che faccia la persona? Volete che la persona vada avanti? Volete che la persona vi lascia i dati? Volete che la persona scarichi un buono? Volete che la persona veda dei video? Volete che la persona vada direttamente al carrello? Volete che la persona faccia un ordine? Dipende dal funnel. Poi ne parleremo con Moreno, non è quello tecnicamente il problema. Il problema è che ci deve essere una call to action, cioè un'indicazione. Io voglio che il cliente agisca. Io non faccio marketing per farmi conoscere. Faccio marketing per far agire le persone in target. sta roba segnatevela finché non vi esce dalle orecchie. Non so come spiegarvela. Quindi, io prima progetto cosa voglio far fare alle persone e sopra, quando ho progettato questo, ci creo il video, o ci creo la storia, o ci creo il pezzo di marketing, o ci creo l'annuncio. Ma non nasce dalla creatività, perché quando ho finito di dire quello che volevo dire e adesso cosa gli chiedo di fare. No! Se fate un'agenzia di marketing, che ognuno di voi nella sua impresa deve avere l'agenzia di marketing interna, partite dal cazzo di call to action. non deve uscire niente dalle nostre stamperie, dalle nostre rotative, dai nostri rotopalchi, non deve uscire niente dal nostro autoresponder, dalle nostre sponsorizzate, che non porti le persone a fare qualcosa di specifico e qualcosa possibilmente di misurabile, che deve avvicinarle sempre di più verso il... e quindi compra, e quindi chiedi una consulenza, o quindi richiedi la visita di un nostro addetto, quindi vieni a visitarci in negozio, prendi questo buono e vieni al ristorante, chiedi un preventivo gratuito, insomma, qualunque cosa sia la call to action, va bene, in questo momento l'importante è che ci sia una call to action. Due, ci deve essere un'offerta, poi ne parleremo più nel dettaglio, ma di base io non faccio mai nessun tipo di marketing, di contenuto, non scrivo niente, se non voglio che qualcuno compri qualcosa o faccia qualcosa o venda qualcosa alla fine della fiera, mi compri qualcosa. Quindi, ci deve essere un'offerta, cioè, io faccio marketing per vendere qualcosa, mettetevi in testa sta roba, perché se no non usciamo vivi, ma con un'offerta, non semplicemente ho sta roba, sappilo, ok? O vendiamo sta roba, sappiatelo, questo non è marketing, ma il marketing, il 99% del marketing che vedete là fuori, in televisione, per radio, anche ormai ovviamente sui nuovi media, come in streaming, è marketing istituzionale, cioè dicono, abbiamo sta roba e guardate questi orsi che ballano, spero che vi facciano divertire, vi ricordiate di noi. Ma questa merda non è marketing, e anche se fosse marketing, non è marketing che dovete fare voi, fidatevi di me, se no non state qua. Ci deve essere un'offerta, cioè che cazzo volete che la gente compri? C'è l'offerta, se non c'è l'offerta non state facendo marketing, non state facendo marketing giusto. Altro componente, un bonus, ok? C'è un bonus aggiunto all'offerta per fare in modo di stimolare le persone a prendere quell'offerta? Un bonus che dia l'idea di ricevere più valore rispetto a quello che stanno pagando, oltre già che l'offerta è qualcosa di allettante per loro perché gli risolve un grande problema o gli permette di realizzare un desiderio forte che hanno? Sì, no, sì, no. C'è un bonus? Ok? Quattro, c'è un motivo per rispondere subito? C'è un motivo per agire immediatamente? C'è un motivo per prendere quell'offerta? C'è un motivo per cliccare, per rispondere, per telefonare, per fare, per venire, per scaricare, fare quelle cose che ci sono indicate nella call to action? C'è un motivo per farlo subito? Se non c'è un motivo per farlo subito il tuo marketing è debole. Ci deve essere, devi mettere un motivo per agire subito, per rispondere subito. esiste una garanzia che inverte il rischio quando porti la persona a fare qualcosa? Ok? Cosa sta rischiando? C'è una garanzia sopra che li garantisce? C'è il, poi lo vediamo declinato, non è qua, ma insomma, c'è il, non rischi niente, c'è il 100% soddisfatti o rimborsati, all'Amazon ti rimborso senza fare domande, eccetera, 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 eccetera. c'è questa formula di garanzia, ok? Poi lo vediamo, insomma, ne parleremo più nel dettaglio delle garanzie, ma, ok? Esiste un secondo bonus ulteriore per la risposta immediata, per i primi che rispondono? Per i primi 50 che rispondono c'è un ulteriore bonus velocità? E soprattutto c'è una scadenza, c'è un timer, c'è un numero limitato di ok? Quando fate marketing, se non ci sono queste sette cose, non lo state facendo, manca un pezzo, ok? Manca un pezzo, quindi voi vi dovete assicurare, voi dovete prendere i vostri pezzi di marketing, se siete lì in 4, 5, 10 persone, insomma, che state vedendo a testa, vi mettete lì e tirate fuori, stampate, ok? I pezzi di marketing, voglio vedere le vostre landing page, voglio vedere i vostri annunci, voglio vedere le vostre email che mandate, voglio vedere tutti i pezzi di carta che spedite, nella media, e mi fate, e ve li autocorregge, non c'è bisogno che venga io, ve li autocorreggete, poi se non sapete come fare, ok, ho capito che non c'è strano, ma non so come fare, e allora lavoreremo su queste cose, ok? Ma intanto, di base, io devo sapere che queste cose devono esserci, se non ci sono, non sto facendo marketing, non sto facendo marketing è risposta diretta, non sto facendo marketing in maniera corretta, quindi la nostra regola di base è che non posso moltiplicare gli zero, cioè nel senso che io come marketer, il mio obiettivo qual è? è ottenere una risposta e costantemente lavorare sui miei pezzi di marketing per migliorare quei risultati, migliorare la risposta, migliorare quel tasso di conversione, migliorare il numero di compravendite, ok? e migliorare insomma tutti i dati intermedi che ci possono essere in mezzo a quello che facciamo. Il problema è che se voi non mettete queste sette cose nel vostro marketing, io non posso moltiplicare gli zero, cioè nel senso il marketing che non presuppone una risposta diretta mi dà come risposta zero nella media, e se arriva qualche risultato non so da dove arriva, quindi anche se arriva qualche risultato, io non lo posso tracciare, non lo posso misurare, non so da dove arriva, quindi di base io non posso moltiplicare gli zero, quindi voi volete migliorare i vostri risultati, i vostri risultati si moltiplicano quando cominciate a fare marketing in maniera corretta e moltiplicate le cose che funzionano e modificate le cose che non funzionano per moltiplicare qualcosa. Un uno lo posso moltiplicare, un dieci lo posso moltiplicare, un due lo posso moltiplicare, un mille lo posso moltiplicare, zero per zero è zero, zero per mille è sempre zero, e quindi voi dovete mettervi a dieta stretta, molto stretta di marketing a risposta diretta, fino a che la vostra azienda non è cresciuta. Poi nel tempo, negli anni, quando diventerete marketer più sofisticati, eccetera, eccetera, potrete modificare qualche cosa, ma non si modifica adesso, perché siete poveri, ok? Quindi finché siete poveri, e non sapete fare marketing, voi dovete imparare a fare marketing secondo i dieci comandamenti, che nel caso specifico erano sette, ma va bene uguale. Cioè, ci deve essere una legge che funziona, che vi permette di applicare, non dovete uscire dagli schemi nel marketing, dovete stare negli schemi per farlo funzionare, dovete uscire dagli schemi mentalmente rispetto a quello che fanno gli altri, ma sulle cose che funzionano tecnicamente, dovete stare all'inizio negli schemi, poi negli anni, quando sarete il Picasso del vostro settore, anch'io ogni tanto mi permetto di dare una pennellata, un po' di traverso, ma voi no, ok? Voi dovete passare anni a imparare a fare marketing stretto esattamente come vi insegniamo, ok? Di sicuro non dovete far parte di quei creativi del cazzo che vogliono rompere gli schemi prima ancora di averli imparati, perché non c'è niente da creare, non c'è niente da essere creativo, se non sai fare le cose, ok? Quindi, di tutto quello che vediamo, e vedremo questi giorni, non è che sono tutti perfetti, come intendo io, però vi faccio qualche esempio di roba che comunque è meglio della roba che fate voi, poi si potrebbe migliorare, potreste fare, ok, io questa pubblicità, lo migliorerei aggiungendo una di queste cose che ha detto Fred, bene, certo, questo è l'esercizio mentale che dovete fare, ma nella media è comunque roba che funziona ed è roba che potrebbe essere fatta funzionare meglio, certamente, ma sicuramente è meglio del non fare niente o della roba istituzionale o schifosa che fate voi o che vi fa qualche web agency del cazzo, questa è la regola, ok? Quindi se no vi dovrei fare gli esempi, ragazzi solo della roba come la faccio io e solo dei miei studenti più stati che gli faccio il marketing direttamente io attraverso le mie aziende satellite, ok? Quindi allarghiamo un po' la visione, però il dato rimane quello. Quindi il concetto è produrre una risposta e migliorarla. Il mio marketing deve produrre una risposta e poi col signore dei numeri la guardiamo e decidiamo di migliorarla. Quindi il mio marketing si deve focalizzare sull'essere notato e sul produrre una risposta che possa essere migliorata nel tempo. Quindi non voglio che vada virale una roba che la vedano due milioni di ragazzini se non sono in target. Non mi interessa niente a me la roba virale, ok? A me interessa che la vedano le persone che a me interessano e grazie agli strumenti, marketing di risposta diretta, tu puoi non diventare virale ma comparire praticamente davanti pagando a tutte le persone in target che potenzialmente o sono lì che stanno facendo delle ricerche dirette su Google o su Amazon o su YouTube e quindi stanno cercando delle cose che vogliono imparare, comprare o imparare a fare oppure puoi lavorare comunque su un certo tipo di domanda un po' più in diretta. Normalmente online si usa Facebook per esempio o puoi fare farming con il cartaccio, eccetera, eccetera. Ma puoi comparire davanti alle persone che sono interessate e solo alle persone che sono interessate al tuo prodotto però devi produrre anche una risposta. Essere virale davanti alle persone non interessate voi non vendete roba da GDO, non vendete i biscotti che se lo vedono tutti voi vendete una roba specifica e dovete comparire solo davanti a quella nicchia, quel target di persone che può essere interessata a vedere quella roba lì. Non dovete comparire davanti a tutte le famiglie d'Italia o di Svizzera o di dove siete, ok? Quindi, smettetela di pensare, diventare noto, avere visibilità, essere conosciuto. Sono i falsi dei adorati dalle varie agenzie pubblicitarie. Il tuo unico obiettivo deve essere la risposta. Cioè, a me interessa quanti soldi incassiamo, il resto sono minchiate, sono minchiate, tutte sono minchiate. Quindi, smettila, anche per i più avanzati, di collezionare indirizzi email all'interno di un cazzo di autorespondere, che sia T-Campaign, che sia MailChimp, eccetera, eccetera. Quello non è marketing a risposta diretta. Quello, ve l'ho spiegato prima, è un surrogato che qualunque web agency di merda ti spaccia come marketing. Ma è l'unica roba che sanno fare. Il modello vi ho fatto vedere prima. Qualche annuncio, un po' di traffico organico, qualche video su YouTube, prendo il click, gli metto l'email e poi gli mando l'email finché non comprano. Non è marketing quella roba lì, ok? Soprattutto non è marketing se c'è un minimo di concorrenza che fa la stessa roba. Siete i soli? Qualcuno capita quando arrivi all'inizio. Sei l'unico che fa quella roba lì? Bene. Dopo un po', sono passati gli anni, sei il centesimo macellaio che mi manda l'email. Io mi disiscrivo perché che due coglioni. Non è marketing quella roba lì. Ok? Lo è in maniera molto blanda. Quindi, diciamo prima, delegare il marketing completamente significa mettere in mano la propria azienda a gente che non vuole che tu misuri i dati che contano. Perché se tu misuri i dati che contano poi non li paghi più. In realtà tu, cioè, esiste un enorme conflitto di interesse tra un'agenzia pubblicitaria, un'agenzia web e te, se ci pensi. Perché il dato è che tu vuoi avere indietro dei dati interessanti che sono le conversioni. Ma queste persone non te li dà. Queste persone ti danno le views, quante persone hanno visto il video se è diventato virale, quante persone hanno cliccato o messo like ai post sui social media manager. Li paghi in funzione di quanti like ti fanno ottenere o cuoricini. Ho capito, quella roba lì non serve a una minchia. Dovresti pagarli in funzione che pubblicano dei contenuti che facciano vendere dei tuoi prodotti, dei tuoi servizi. Ma loro questa roba non te la vogliono dare, non te la vogliono misurare. I più avanzati ti dicono e voi in base ti danno il costo per lead. Il costo per lead loro intendono quanto mi è costato avere una persona che mi lascia l'email dentro l'autoresponder. non ci faccio un cazzo con l'email, non posso portare l'email in banca. Non posso portare l'email in banca. Io ho bisogno di dati che mi permettono di far crescere la mia azienda. Quindi i dati che voglio io, i dati che contano, non sono i dati che mi vuole dare indietro il tecnico, la web agency o l'agenzia pubblicitaria è peggio ancora. L'agenzia pubblicitaria è a vecchia maniera proprio è il peggio il peggio. È proprio lì solo su visibilità assoluta. L'unico asset quindi che conta davvero in un business è il cliente pagante. Per essere più specifici è la relazione che abbiamo con il cliente pagante. Questo è l'asset vero che noi abbiamo in azienda. L'unico asset vero che noi abbiamo è che io dovrei avere una lista di gente che mi paga normalmente e dovrebbe essere da qualche parte e mi servirebbe perché questa è la gente che io dovrei usiamo il paragone che ci ritroviamo dopo anche nelle slide cioè se fosse il mio ranch con le mie mucche dovrebbero essere le mie mucche da mungere. E l'unico asset che io compro in un'azienda cioè quando io sento mi paghi l'avviamento ma io non so che cazzo è l'avviamento perché se io vai via te e non c'è niente qua non c'è nessun avviamento ok se hai una lista di persone ok invece che io posso contattare a volontà online e offline e ho il numero di telefono ho l'indirizzo fisico di casa l'indirizzo fisico del lavoro B2B B2C e ho anche qualche indirizzo email eccetera eccetera qualche cookie per inseguire beh quello è un asset aziendale normalmente no cioè il come anche si compravendono le aziende io non lo faccio mai cioè perché compravendete il niente normalmente la gente compravende il niente o fa fatica a farlo anche in Italia perché compravende il niente non esiste l'avviamento io compro una lista di clienti se mi dai una lista di clienti paganti mi fai vedere quanto hanno speso cosa comprano in maniera ricorsiva eccetera eccetera ogni quanto allora ne parliamo il business è quella roba lì il resto è niente muri macchinari cos'è operai dipende cos'è ma non è quello il business l'asset vero che io posso comprare è questa lista di clienti paganti poi c'è il problema che non basta perché il problema è la relazione con questi clienti cioè la relazione con i clienti che io devo essere in grado di creare o risostituire da zero quando entro in un'azienda per voi lo dovete fare solo nella vostra azienda quindi rendervi conto della relazione che abbiamo con il cliente cioè se ho delle buone relazioni con i clienti ovviamente e sono in grado di mantenerle questo contatto è vivo allora i clienti io li posso mungere li posso spremere se no no il problema è questo ok quindi uno la prima cosa da avere è avere la fattoria con la tua mandria quindi il tuo gruppo di clienti mi servono un gruppo di clienti voi ce l'avete un gruppo di clienti paganti quanti sono perché il problema è quello io c'è tante volte ragazzi vengo con un'azienda anche grande che fanno qualche milione di euro grandine 20 clienti è figa ma se hai 20 clienti alla fine sei un mezzo terzista lavori comunque più o meno cioè te ne va via uno cioè a colpi di 5-10 20% il fatturato secondo di quanto è grande il tuo cliente cioè non hai un'azienda sei ostaggio di queste persone qua quindi anche rivoluzionare il business che ne parleremo nel terzo giorno per voi altri è importante per chi invece ha attività e non ha la lista clienti è un problema una lista dei clienti paganti non mi interessa se avete la lista delle email a me interessa che in un CRM voi abbiate il controllo di gestione cioè abbiate i nominativi dei clienti abbiate quando è l'ultima volta che hanno comprato qualcosa che cosa hanno comprato che cosa hanno comprato in generale qual è il volume totale dei soldi che vi hanno dato e come li contatto per fare in modo che continuino a darmi dei soldi se non avete sta roba qua marketing non si può fare non si può fare quindi a me che voi abbiate l'autoresponder con i lead che vi vende la web agency con le email farlocche di gente sconosciuta ma io non ci faccio niente con quella roba lì io voglio i dati di contatto e voglio registrati i pagamenti e gli acquisti delle persone ma non mi interessa che ce li abbia l'amministrazione mi fate incazzare ma io ce le amministrazioni ce le fatture io vi spacco la faccia perché la dovete smettere di darmi delle risposte di merda quei dati lì non devono stare in amministrazione perché le fatture ve le dovete mettere in culo a me quei dati servono nel CRM del marketing mi servono in attacco non mi servono in difesa non so cosa ha comprato il cliente non me ne frega un cazzo che lo sai perché lo deve sapere il tuo reparto marketing per fare le campagne su quella gente lì il fatto che siano in amministrazione io ho fatto le fatture non me ne frega un cazzo che ce l'abbia lo so perché se no vuol dire che stai facendo nero abbiamo altri problemi ma nella media quei dati dove stanno devono stare in attacco non devono stare in un archivio pro tasse pro tassatore non mi interessa quella roba lì devono stare nei faldoni dell'amministrazione i dati su che cosa compra la gente zio canaglia devono stare nel reparto marketing caro imprenditore se sei arrivato fin qui è perché ti è piaciuto questo video per questo ti chiedo e se ci fosse un club esclusivo con incontri di aggiornamento ogni mese per persone che vogliono raggiungere il successo proprio come te sto parlando del circolo degli imprenditori di Frank Merenda se vuoi scoprire l'offerta a te dedicata ti basta cliccare sul link in descrizione fermo dove credi di andare te ne stavi andando senza iscriverti al canale vero? vedi di non farmi arrabbiare iscriviti subito e attiva la campanellina non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo giusto? allora fai bravo iscriviti ora grazie